L'associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea, in collaborazione con il Comune di Torchiara e la dimora d'epoca a Borgo Riccio, organizza il mercatino dell'artigianato a Torchiara, che partirà domenica 10 novembre. Un appuntamento che vuole segnare una continuità nel tempo. Ogni seconda domenica del mese, infatti, artigiani ed artisti presentano le loro opere al pubblico per creare contatti, per far conoscere le proprie attività manuali, per formare un centro di interesse per l'artigianato artistico presente e poco conosciuto nel Cilento. L'idea prima di tutto nasce proprio dalla volontà di creare una microeconomia di questi artigiani e soprattutto artigiane poi alla fine, perché sono quasi tutte donne che lavorano e fanno dei lavori veramente molto interessanti e particolari e soprattutto unici. Ecco, mi piacerebbe che un po' si ritornasse a questa unicità, perché ci sta la manualità e quindi il sentimento, l'amore che si trasmette anche nell'oggetto e quindi alla fine di chi lo acquista e chi lo porterà. Di espositori al momento siamo abbastanza, quindi per questo abbiamo deciso di farlo al Palazzo Baronale, che è una sede prestigiosa e quindi ringraziamo il Comune perché l'ha messa a disposizione e siamo al coperto soprattutto e lo vorremmo fare appunto ogni seconda domenica del mese, in modo che diventi anche un luogo di incontro, di ritrovo per le persone e nello stesso tempo poi se si trova qualcosa che piace, come io mi auguro, sicuramente piacerà, anche acquistarla, perché no? Possiamo dare indicativamente anche degli orari per venirti a trovare? Adesso iniziamo partendo alle 3 il pomeriggio fino alle 10 la sera, poi vediamo nel futuro, non lo so se fare tutta la giornata o meno, è un po' da vedere un attimino, è sperimentale. Per noi è molto importante aggiungere valore al Palazzo Baronale dei Concili di Torchiara, perché è diventato da tempo oramai il Palazzo della Musica, il Palazzo delle Mostre e quindi anche questa idea che abbiamo condiviso con la Maria Torre di Cilento Domani e con il gruppo che si occupa, il maestro Dottorella che si occupa dei concerti del Festival, abbiamo pensato fosse bello creare questo spazio per giovani musicisti e nello stesso tempo fare questi mercatini artigianali, ma veramente mercatini artigianali, lo dico contro i miei interessi, non c'è un mercatino dove si mangia, dove si beve, perché ce ne sono tanti. Noi vogliamo offrire uno spazio a artigiani che fanno delle cose particolari e proveremo questi due mesi, questa data di domenica è la data dell'8 dicembre, dove anche l'8 dicembre sarà un altro concerto nel pomeriggio sempre all'interno del Festival. Se la cosa funziona vorremmo farlo diventare un appuntamento fisso, mensile e speriamo che funzioni. Sempre domenica 10 novembre si terrà anche la Rassegna Smart Collection, Cilento International Music Festival, dedicata ai giovani musicisti emergenti. L'idea nasce dall'esigenza di creare nuove opportunità di visibilità per i giovani talenti, in continuità con il Festival internazionale, quale augurio per una splendida carriera artistica. In che cosa consiste la Rassegna Smart Collection? Consiste innanzitutto nella promozione di questi giovani talenti, quindi di concerti, di ragazzi neodiplomati. Avremo nel prossimo concerto domenica Gianluca Cappetta, che tra l'altro è stato un mio allievo, e che si è diplomato, si è laureato, oggi c'è una laurea, al Conservatorio di Avellino, con 110 e lode, più menzione d'onore, quindi davvero una grande promessa della chitarra. Altrettanto c'è un fisarmonicista Luigi Cordano, vincitore di tantissimi premi internazionali, e un'altra promessa appunto del Bachank, quindi della fisarmonica. Insomma, si tratta appunto di promuovere questi talenti e di far sì che ci siano concerti, soprattutto da parte di giovani, perché poi i giovani tante volte possono dare di più, cioè maggiore entusiasmo, maggiore passione, e sicuramente possono anche realizzare dei concerti più interessanti per il pubblico rispetto a un professionista che ormai ha già, insomma, una certa abitudine, routine nel suonare davanti al pubblico. La promozione del territorio di competenza della BCC Buccino Comuni Cilentani attraverso l'arte e lo spettacolo è un elemento che contraddistingue il credito cooperativo dalle altre banche. Il presidente Lucio Alfieri ha subito aderito al progetto musicale, assicurando non solo il sostegno economico, ma contribuendo anche alla programmazione dell'evento che si pone nel Cilento tra le rassegne più impegnative e di alta espressione artistica. Ci siamo subito interessati a questo duplice appuntamento, perché immaginiamo che da un artigianato artistico poi col tempo crescerà sia quel segmento e può crescere anche una mostra dell'artigianato importante da tenere a Torchiara in modo da far confluire più imprese e farle colloquiare con potenziali clienti. Fare in modo che traduciamo, oltre all'arte e alla cultura, anche un sostegno visibile, economico, alle imprese per farsi conoscere di più sul territorio. Il Cilento International Music Festival l'abbiamo sostenuto già in passato e unitamente a questo abbiamo inserito questa Smart Collection che ci gratifica, che gratifica molto i giovani, perché anche in quell'occasione abbiamo parlato di giovani, abbiamo detto che li avremmo sostenuti. Questo è l'esempio chiaro che stiamo proseguendo su quella strada.